benvenuti allo spazio tv del corriere della sera allora come direbbe un bravo presentatore siamo orgogliosi di avere nei nostri studi un ospite d'eccezione beppe grillo grazie anche in forma gratuita perché non dire questo è uno dei miei grandi cambiamenti di questo secolo la gratuita innanzitutto bisogna ringraziare ovviamente di aver accettato l'invito grazie a voi sono contento anche di riallacciare alcuni rapporti che sembravano così un po deleteri un po così rapporti un po grevi a volte con la stampa io l'ho sempre avuti ce l'ho ancora non che non ce l'hanno io spero che la percezione di quello che diremo stasera arrivi perché a volte noi cerchiamo diciamo delle cose e pensiamo che la gente recepisca la stessa cosa che recepisci tu dai per scontato un significato poi non è così vediamo se riusciamo a a far arrivare alcuni concetti che ci diremo stasera ecco allora iniziamo ma lei qui è in veste di comico o di politico guarda io sono in una zona abbastanza strana perché ho perso il mio diritto di satira facendo il politico come comico perso il diritto di satira e come politico non ho l'immunità parlamentare quindi sono in una zona che mi arriva infatti lo spettacolo probabilmente inizierà con dei faldoni che io porto dentro una scatola di cartone faldoni di denunce che mi arrivano per qualsiasi cosa come capo politico come capo del movimento e spiego com'è successa questa cosa che io mi ritrovo essere un leader un capo di movimento quando io ho sempre detestato leader capi movimenti partiti non mi sono mai iscritto a niente e mi ritrovo a essere un leader considerato leader nei vostri telegiornali prendete delle foto mie di anche tre anni fa potrei morire che io potrei rivivere nelle vostre immagini come leader indiscusso e quindi vado non muoio mai non riesco a staccarmi non ci si riesce a staccare ma noi l'abbiamo invitata anche per questo si aggiorniamo il nostro archivio sì sì no è vero è vero ma quindi questo 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 passaggio di nuovo a tornare al comico è la mia natura cioè io non posso vivere con la con la paura che se faccio una battuta sui vegetariani mi chiama l'attivista di Benevento e mi dice c'è ai banchetti c'è gente incazzata tutti i vegetariani perdiamo un milione di voti è una questione anche di libertà mentale è una libertà che io voglio ed è stata la mia vita quella di poter dire le cose in estrema libertà io prima dico le cose poi penso a quello che ho detto ecco dove nasce la mia creatività ecco lei è tornato in teatro per riprendersi la sua vita tornare a suo diciamo così primo amore con lo spettacolo Grillo Contovello che adesso venerdì prossimo se non vale errato riparte da Torino ha fatto delle date di debutto a febbraio adesso ritorno ecco all'interno di questo di questo spettacolo lei ha detto appunto che in realtà ci sono due personalità di Grillo che in realtà queste due personalità non sono mai esistite è stata la percezione del pubblico e all'interno dello spettacolo si parla anche di questo è così assolutamente sì sì questo linguaggio binario anche mentale che ho avuto perché il politico deve essere preciso deve essere sintetico preciso obiettivo reale il comico è tutto l'opposto io poi sono imprevedibile non sono mai precisissimo posso sbagliare e è una delle mie una mia natura quella di anche di poter sbagliare un dato piuttosto che un altro esprimo un concetto posso sbagliare il dato analitico e se sbaglio un dato analitico da politico con la guida di Michele è un politico posso fare un disastro nel nel movimento quindi questi due concetti di di mentalità che si scontrano il comico e il politico poi viene fuori un essere elevato una roba che si eleva da questa dimensione binaria e lo spettacolo poi verte su tecnologie su su come andrà il mondo come andrà perché io do una mia versione perché ci vuole la visione anche nella politica se non hai una visione a 20 30 40 anni non ti parla di trivelle è giusto andare lì alla trivella e dire dare sul referendum sì anche se non si capisce cosa fare diciamo sì e basta ma non è la trivella è che a noi manca un ragionamento coerente di politica energetica di 30 anni svezia e svizzera e finlandia escono dal petrolio qui ho una 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 slide che volevo farti vedere questa è molto interessante non so se è inquadrata questa sono i rockefeller la fondazione dei rockefeller che sono i rockefeller hanno vissuto di petrolio e di energie fossili per tutta la vita da poco tempo stanno disinvestendo i soldi dal fossile vuol dire che sta succedendo qualcosa una bolla non ci possiamo stare dentro per questi quattro farlocchi che pensano ancora e delirano come dei 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 malati di mente veramente dobbiamo prenderci un periodo di dire cominciamo adesso per costruire fare le cose dal punto di vista ingegneristico dal punto di vista della della logistica come trasportare le cose come costruire i rifiuti cominciare adesso per passare in venti trent'anni alle rinnovabili non puoi buttare la co2 del petrolio che è sotto il petrolio e gas se tu lo bruci fai 2800 di gigatonnellate 2800 gigatonnellate quando ne puoi buttare 500 arriveresti ad aumentare la temperatura del mondo di 5 4 5 gradi sarebbe un disastro totale ma non lo vuole nessuno è vero non è vero i negazionisti ci sono sempre ma non è questione è questione di civiltà si passa adesso si deve passare adesso non pensando che finisca il petrolio e poi passiamo ad altre energie non finisce questa storia qua non finisce io facevo una battuta tanti anni fa è come se l'età della pietra fosse finita perché erano finite le pietre non era così bisogna andare avanti concentrarsi sul futuro futuro è è un è leggero non è pesante il futuro non è bruciare senta lei ha criticato il governo per l'emendamento sulla total si è beccato la querela da renzi no 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 è tutto una finta è tutto una finta è andata bene perché qualche anno fa per aver dato dei lati ai socialisti di craxi è stato allontanato da due anni ma no ma guarda le querele sono un modo di andare in televisione dire quereliamo poi i presupposti non ci sono io non ho parlato del pd ho parlato di un governo che è sporco di con le mani di petrolio non c'è nessun reato quello che ho scritto nel blog ok non c'è nessun presupposto giuridico per una denuncia lo fa ma vi fanno credere a voi in televisione che la notizia qual è è grillo che spara cazzate dice parolacce ce l'ha con tutti è il solito grillo adesso lo mettiamo a posto la notizia è quella non che vogliono continuare a passare un concetto di energia completamente sbagliato sbagliato una tecnologia di una piattaforma una cosa costosissima vai a tre chilometri sotto possono succedere dei disastri che non puoi metterci una pezza come nel golfo del messico la compagnia è stata multata per mi sembra 20 miliardi di dollari 20 miliardi ecco dove vanno poi i guadagni di quelle compagnie lì allora questa tecnologia che è quello è l'infrastruttura che crea il prodotto interno lordo è lì non il petrolio il petrolio potrebbero anche regalarlo il gas che arriva da l'uzbekistan che passa sotto va sotto i gli ulivi di 2000 anni li tolgono per passare per arrivare a brindis da brindis il gas lo portano in austria noi non prendiamo il gas non costruiamo neanche i tubi perché li fanno magari la total francese posti di lavoro quali è una presa per il culo vi prego non cadete nella trappola della percezione del posto di lavoro mettono sempre ambiente e posto di lavoro bisogna dare un taglio a queste cose i posti di lavoro sono rinnovabili migliaia e migliaia di posti di lavoro non nel fossile il fossile un tubo che metti su una tribella che va giù per l'amor di dio per l'amor di dio non cadete in queste trappole ma lei nello spettacolo ne parla assolutamente qual è l'alternativa che lei anche al mondo adesso non esageriamo magari anche solo per l'italia l'alternativa è che far capire la gente come percepisce la realtà perché guarda che noi a volte diamo per scontato dei concetti che diciamo io se ti dico l'aria è buona l'aria pulita ti piace non te lo dico ti piace l'aria pulita o l'acqua pura da bere non te lo dico neanche perché do per scontato che sia vero ma non è più così se io ti dico ho rinunciato abbiamo rinunciato non so come 42 milioni di euro di rimborsi elettorali il giorno che l'abbiamo detto io ho detto a mia moglie ho detto guarda non esco di casa perché se esco la gente sarà talmente grata che nasca un movimento che non prende soldi di gente che non ruba che ci abbracceranno mi abbracceranno per la strada io dico non voglio gratitudine così non la voglio sto in casa sono state in casa non è successo niente la gente non ci crede la gente non ci ha creduto e noi continuiamo a ribadire guarda prendiamo i soldi metà stipendio il microcredito la gente continua a non crederci perché se no ci dovrebbe abbracciare per le strade dovrebbero prendere di maio di battisti di questi qui e sommergerli di baci di affetto e di amore e di chi è la colpa e non succede la colpa del cervello il cervello a due a due livelli alla mente il cervello quanto è che il cervello è una cosa strana il cervello quando tu vai a prendere la macchina la fai lavare te la danno tutta pulita no tu prendi la macchina il tuo cervello diventa albanese diciamo dice bella pulita nuova nuova la mente dice guarda coglione è sempre la tua macchina ha sempre quel rumore lì è vecchia è solo più pulita questi due piani comportano una cosa che tu percepisci la realtà ma non percepisci più la verità la realtà qual è oggi della democrazia che io ti do dei soldi ti do la scarpa a destra poi ti do la scarpa a sinistra e tu mi dai il voto questo verte su questo concetto ormai in disuso vecchio anche come concetto no di lauro e questa è la realtà la realtà ancora di oggi no la verità qual è la verità che noi non prendiamo i soldi noi non ci siamo dentro noi dovremmo essere staccati da tutto e dovrebbero vederci come una composizione miracolosa che entra in un momento politico devastante a salvare questa poco equilibrio di democrazia perché guardate che la velocità con cui un paese si trasforma in nazista e fascista è sotto gli occhi di tutti è questo tipo di velocità che dà il senso della 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 civiltà di un popolo è questa velocità da noi si è rallentata guarda svezia danimarca olanda francia grecia sono al governo i nazisti da noi non è successo dovrebbero abbracciarci perché non ci abbracciate per le strade non ci votate ma abbracciateci almeno non ci votate non lo vogliamo il voto vogliamo l'affetto e l'amore perché è una cosa che abbiamo fatto straordinaria e non la e non e non vi arriva dobbiamo fare come il tenente colombo tenendo colombo perché la comunicazione ogni volta che ripeti siamo i migliori siamo i meglio siamo onesti così arriva al contrario nixon quando andato in televisione a dire io sono innocente tutta la gente ha pensato colpevole hai capito il meccanismo è lo stesso nostro ci vuole il tenente colombo che entra nella scena del delitto e spiazza tutti arriva lì e parla del capoto della macchina della moglie e se ringrazia così poi dà ragione a quello che poi si sa che è l'assassino lo coinvolge gli dà ragione ha ragione perché poi un attimo prima di uscire dalla stanza sta per uscire si ferma si gira e fa una domanda che mette in crisi mette in crisi tutto quello che aveva detto prima allora dobbiamo trovare delle strategie del tenente colombo che arrivino alla gente arrivino alla gente a questo meccanismo mentale che non è contenibile non è più neanche ben capibile per uno che fa il comico lei prima ha detto che voleva riprendersi la libertà e aveva già dichiarato che faceva un passo di lato ma per spazzare via qualsiasi ambiguità non le converrebbe cedere la proprietà del marchio movimento 5 stelle così tutti capiscono che lei non è più il politico grillo sarebbe disposto a farlo questa domanda non la riesco a capire perché non è questione di proprietà del marchio non marchio io ho una funzione come quella di casaleggio che ha la comunicazione abbiamo una funzione di garanti perché se entra un negazionista e come è successo entra un negazionista nel movimento 5 stelle è una garanzia per mandarlo via immediatamente uno che dice che ad Auschwitz era un campo giochi o un bed and breakfast capisci allora vai fuori dalle palle immediatamente non sto a fare la votazione online se è giusto o non giusto se sei massone se sei negazionista se hai precedenti queste 5 6 regole che servono per entrare in questo movimento le garantiamo noi a volte con il voto quasi sempre col voto ma quando è palese non serve il voto io le proponevo questa ipotesi giusto perché così lei si muoverà il campo dalla sua doppia funzione sì ma succederà succederà assolutamente come ho tolto il nome dal simbolo e poi io voglio che il movimento diventi con una sorta di non chiamiamo la proprietà ma di gestione da parte di persone che sono dentro il movimento che sono nati con me con già Roberto con tutti quindi sarà è già in corso questo questo procedimento di cambiamento non è io torno a fare il comico perché è la mia natura non vede come scalpito non ho niente di qualcosa di politico faccio quello che sono sempre stato andavo alle amministrazioni dei consigli di amministrazione dell'Enel andavo alle consigli di amministrazione della Parma non c'era il movimento andavo compravo tre azioni andavo a parlare agli amministratori dicendo ma questo è un bilancio sono ragioniere come mai qui ci perde duemila qui guadagni mille perdi duemila dici che vai bene l'ovvio l'ovvio io ho sempre controllato l'ovvio l'ovvio non lo controlla mai nessuno lo dai per scontato di nuovo però dietro poi uno yogurt in un frigo uno yogurt chi lo va a controllare e io per la prima volta anni fa controllavo sto yogurt che faceva 6.000 km su un camion 6.000 quindi devastava mezza Europa perché io mangiavo questo yogurt innocuo e il mirtillo arrivava dalla Trimarca e la plastica arrivava dal Golfo Persico con il petrolio l'alluminio dalla Buxite dall'Australia c'era un giro di roba dietro questo yogurt un litro di petrolio un litro di acqua minerale andavo a controllare la logistica come fa un kiwi arrivare qui da 10.000 km costare meno che il kiwi che coltello lì questa dissonanza della ragione mi esaltava e mi esalta ancora mi esalta questa visione della politica dell'economia ma è incredibile a proposito di votazioni il Movimento 5 Stelle secondo gli ultimi sondaggi voleva farmi una bella intervista sullo spettacolo è fantastico vede che anche lei non riesce a dissociare la sua professione l'ultima domanda diciamo così per virgolette di politica rischiate voi il Movimento 5 Stelle secondo gli ultimi sondaggi di vincere con Virgina Raggi dei comunali di Roma faccio questa proposta faccio questa dichiarazione se la Raggi non vince mi do fuoco in piazza perché di nuovo io sono veramente ma lasci perdere i movimenti, la politica parlo da uomo, da uomo normale, come non so se lei è un uomo normale però da persona normale io non capisco non capisco come una persona non voti una persona come la Raggi non lo capisco ma veramente qual è il meccanismo mentale che uno dice dato che è una persona per bene, competente mamma, è dentro i conti da un sacco di tempo si presenta bene è una bella persona, non ha precedenti è un avvocato non la voto ma io divento pazzo ma come faccio? allora il discorso è di far arrivare alle persone dei concetti semplici che ci sembrano semplici ma che non arrivano più arriva al contrario di tutto oggi la realtà è rovesciata ti devi mettere la gamba in su a testa, in giù e guardare quando tu sei oggetto di 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 critica di tutti i media dovete ragionare che quando sei oggetto di critica di tutti i media insieme hai ragione tu è questo lo sviluppo oggi dell'economia e della politica mondiale media che cioè grandi multinazionali che tengono i media e i media fanno andare gente in piazza a soverchiare governi eletti democraticamente dai popoli questo è quello che c'è oggi la confindustria mondiale non gli piace che ci sia un sindacalista che faccia il presidente del Brasile non gli piacerà mai non gli piacerà mai che un contadino vada a fare a Bolivia il presidente della Repubblica o che una partigiana faccia il presidente della Repubblica non lo accettano queste cose e allora portano in piazza con l'informazione falsata indegnamente falsata a rovesciare dei governi messi lì dai cittadini questo è quello che sta succedendo anche in Italia i vostri media i vostri media ora lei magari è un pezzettino così di ancora di obiettività perché però il contesto di questo è un contesto dove c'è una confindustria che gestisce sono le banche che gestiscono ma dove ha mai visto una confindustria che ci abbia una radio e un giornale al mondo dove dove la confindustria che cos'è chi c'è dentro cosa sta succedendo in questo paese qua bisogna ripensare questo non abbiamo più il tempo non c'è più il tempo un piano bici vuole energia economia fare delle cose che poi risultano insbaltibili non si può più costruire costruire casi in un'altra maniera costruire energia con altre fonti costruire la comunicazione guardi guardi non so se posso dirvelo ma Zuckerberg Andersen questa gente della Silicon Valley sta dicendo che l'inserimento di 500 mila robot dentro il 2025 porteranno milioni e milioni disoccupati se ci sono milioni disoccupati i robot producono quindi la produttività aumenta cioè le cose prodotte i lavori scompaiono perché lavora la macchina allora tutta questa cosa prodotta dai robot chi la compra? chi la compra? una volta era la classe media che comprava la classe media sta scomparendo perché gli stipendi della classe media si stanno abbassando chi aveva tre appartamenti quattro case viveva abbastanza aggiatamente oggi ha solo dei problemi perché gli affitti non si pagano hai solo le tasse quindi c'è un problema se non inserisci in questo passaggio dall'economia di produzione forte industriale a questa economia più leggera di cognitiva che chiamano capitalismo cognitivo questo passaggio epocale non inserisci violentemente un reddito universale cazzo per tutti non ne esci ci vuole la gente che compra le cose che facciamo non c'è più sta scomparendo in questo momento qua per piacere è una cosa normale in Svizzera stanno facendo il referendum a giugno sul reddito universale noi stiamo tentando da una vita di dire alla sinistra alla destra ma vi sembra possibile che abbiamo 9 milioni di famiglie sotto la solid povertà l'inizio è un reddito di cittadinanza ma il sogno è un reddito universale per tutti per tutti mettere al centro l'individuo togliere il salario perché il salario dal lavoro sta finendo il lavoro salariato sta finendo non c'è più infatti ci sono diverse aziende che come benefit danno anziché premi in moneta danno il tempo libero quindi ci saranno mille sfaccettature di queste cose ma il rapporto deve cambiare il rapporto metti al centro l'individuo e non il mercato del lavoro io ho un reddito decido io se lavorare quanto lavorare come lavorare magari non faccio niente chi lo sa magari sono un creativo magari sono allora come si finanzia questa cosa perché tutti sai qual è la reazione lui non fa un cazzo io mi faccio il culo e tu gli dai gli soldi senza fare niente questa è l'invidia che c'è dentro di noi ma la cosa è l'unica soluzione la finanzi con una progressivo sviluppo di una di un sistema fiscale cioè di togliere tutte le tasse dal lavoro e dal reddito e incuneare questo 50% è stato calcolato mediamente progressivo una tassa sui consumi cioè alla fine vi faccio un piccolo esempio fatemelo lo dico nello spettacolo un piccolo esempio allora la domanda è chi deve pagare le tasse chi fa il pane di notte o chi lo compra al mattino la vedete che adesso le sinapsi cominciano perché tutti i due tutti i due non uno allora deve pagare chi compra il pane che è così quando tu prendi un caffè da un euro in quell'euro lì cosa paghi paghi il caffè la tazzina il servizio le tasse la luce il caffè che è arrivato i trasporti tutto quell'euro lì allora se tu togli le tasse del lavoro e la tasse sul reddito la composizione di quel reddito di quell'euro lì la composizione dell'euro che paghi cambia paghi il 50% il prezzo rimane sempre un euro ma il 50% del prezzo diventa una tassa che tu finanzi tutto perché non c'è più la tassa sul lavoro non c'è più la tassa sul reddito allora rapporto rapporto datore di lavoro prestatore d'opera si mettono d'accordo io voglio un lavoro ho già un reddito posso lavorare hanno fatto un'indagine l'80% di persone hanno detto io farei lo stesso lavoro perché amo il mio lavoro anche se avessi un reddito farei quel lavoro lì un altro 10% ha detto farei quel lavoro lì ma lavorerei di meno e un altro 10% ha detto non farei niente sarei creativo è la tua vita è la tua vita che metti in centro ti scegli il lavoro non sei scelto dal lavoro milioni di persone sono convinte ad avere un posto di lavoro hanno un posto di reddito e fanno qualsiasi tipo di lavoro per sopravvivere ma non è vita aspetta lei tutto questo lo dice nello spettacolo mi deve abbracciare adesso mi abbracci vuole che l'abbracci no no mi abbracci l'abbraccio molto calorosamente perfetto la sento vicino perfetto ma siamo in conclusione ma lei tutte queste cose le dice in uno spettacolo ma il tema dello spettacolo è anche grillo contro grillo no? alla fine sì ma il grillo contro grillo è queste due personalità che si scontrano e poi non è ci sia un vincitore esce un grillo elevato che si eleva e dice guardate che la soluzione ce l'avete voi dentro di voi perché bisogna che tipo di vita vuoi fare la domanda che ci dobbiamo porre non è petrolio o non petrolio è che tipo di vita vuoi fare e far fare ai tuoi figli siamo diversi io sono nato in una generazione che il punto fisso del successo era il grano dopo la guerra il grano il grano era il grano per arrivare al benessere i miei figli non sono più così i ragazzi oggi non sono così hanno altre strutture mentali vogliono l'associazione vogliono l'ambiente vogliono andare in bicicletta in un bosco vogliono altre cose che io non ci sono mai avrei mai pensato di fare una roba così oggi i ragazzi vogliono altre cose e non c'è nulla nulla che gli vada incontro nulla viviamo in un momento di ansia di paure ansia c'hai l'ansia perché la politica è priva di ideologia qua non c'è più ideologia nella politica è amministrazione come fai a appassionare uno a un conto corrente a un'amministrazione non si appassiona la passione la passione determinava il potere tu ti appassionavi e ti concedevi al potere dell'ideologia non essendoci la passione come fanno con l'ansia con la paura hai paura di tutto hai paura del diverso hai paura di quello hai paura di quell'altro hai paura della tua cassetta delle lettere hai paura di equitalia hai paura delle tasse hai paura di tutto con la paura sei sotto scacco ma mi dica la verità lei dà più soddisfazione fare il politico o il comico ma io cosa ne so ma perché voi la parola politica non sapete neanche descrivermi cosa significhi io quando parlavo nei miei spettacoli parlavo delle stampanti 3D di che cosa parlavo di politica di economia di finanza o ero un comico io parlavo di quelle cose lì come parlo adesso con lei sono questo io se venite a teatro e venite lì io vi parlo vi dirò delle cose io voglio che non vengano i grillini solo io voglio un pubblico vero e c'erano i pubblici il pubblico quello che arriva a teatro gli stai sulle palle lo vedi però è venuto per dimostrare a se stesso che gli stai sulle palle non ti apprezzava come politico non lo facevi ridere come comico però i figli però la curiosità di avere la conferma e guardandomi in faccia volevano averla e vedere questa gente che all'inizio non rideva con le facce così come dire dai prova a farmi ridere adesso eh e vederli piano 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 sciogliersi piano piano ridere e piano piano in queste due ore sciogliersi e questa è la mia vittoria far arrivare al teatro quella gente lì allora noi ringraziamo Grillo punto se è comico no ma ora voglio che vi abbracciate per tutto quello che abbiamo fatto io mi merito questo non voglio soldi ma voglio il vostro affetto va bene? sì no ma voglio per me sostenere un'altra Grazie.